Qui vediamo Daniela, Roberto e Marta. Siamo a Pedrella all'orto di Nonno. Marta non è ancora abituata a camminare nei terreni accidentati e quindi si è spaventata perché la stava per cadere. Qui vediamo tutti i pai che usavano nel pietro per far allalpigare i fagioli, che usavano nell'orto che curava. Questo è un periodo ancora invernale e l'orto non è curato. Roberto si accanisce contro il barattolo, porta una pistola a caupoi mentre tagliamo la spazio con Marta. Qui vediamo che Nonno Pietro ha gettato sul terreno delle pame. Qui si accanisce contro il terreno delle pame. Sulla sfondo si vedono quelle che si chiamano le spalle, e poi sono le spalle, attraggiate dagli orribili condomini. Grazie. Grazie. Grazie.